Buongiorno, benvenuti al forum di Bologna. Mi chiamo Matteo Cranna e sono presidente dell'Euracqua. Euracqua che rappresenta fin dagli anni 70 alcuni leader di mercato, tra cui Byrol, Dryden Aqua, Airborner, che oggi rappresentano il massimo della tecnologia e dell'innovazione per il trattamento dell'acqua di piscina. Innovazione che porta risparmio energetico con le tecnologie come Dryden. Dryden che permette di avere acqua potabile in piscina, evita di avere pluriferazione batterica all'interno del vostro impianto di filtrazione e garantire uno standard qualitativo nella filtrazione di altissimo livello. Questo risparmio energetico è direttamente correlato anche con le tecnologie che offriamo con Airborner e Pentair con pompe a magneti permanenti che portano degli assorbimenti estremamente irrisori di quello che è il consumo del vostro impianto di filtrazione. E non per ultimo, con Byrol quest'anno che compie 90 anni, offriamo tutta una nuova serie di prodotti per la disinfezione a base di pastiglioni multifunzioni con la nuova tecnologia odor control. Per tutte queste innovazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito internet euracqua.it dove potrete vedere una serie di filmati che vi spiegheranno in maniera esaustiva queste tecnologie. Vi aspettiamo sulla nostra pagina. Grazie